Millefoglie, pistacchio, cassata, fondente, fragola e torone La ricetta del gelato in realtà è la più facile in assoluto è una base di latte, zucchero, panna e vari adensanti naturali poi a secondo delle fragranze, insomma il pistacchio, la nocciola per dare il gusto Per farlo a casa ci vuole la macchina del gelato Rigorosamente Nutella e pistacchio Pior di latte e nocciola Caffè tiramisù I don't know If you walk up and fuck that girl, I'll see you soon And I watch I'm broken down for a king of dogs too And I watch I'm broken down for a king of dogs too